Tratto dall'omonimo romanzo di Eupremio Carruezzo Doveva essere un tranquillo weekend tra amici Invece si rivelò un pauroso incubo Ma cosa è successo qui? Uno sciame di api geneticamente modificate ha invaso la terra Aiuto! 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 Ogni loro morso può essere letale Mi hanno munto! Mi hanno munto! Oddio me lo sono diventato! Mi ammazzo tutte i bastardi! Nulla può sconfiggerle Dal maestro del brivido Adolf Perticone La pecorina A dicembre in tutti i cinema A dicembre in tutti i cinema Tu hai letto mi sapere Uuuuuh